perfetto allora che cosa sono questi questi sono dei cosi che tu non li trovi impazzisci non li trovi e se li trovi li trovi al prezzo molto alto queste artemisie capito artemisie ce ne ho anche io lo faccio vedere ce ne ho anche io ma uno per non dire che i vendo che io non vendo prodotti capito guarda qua la mia artemisie lo vedi sta essiccare via artemisie guarda qua l'artemisie guarda qua che si asciuga l'artemisie è un po disordine guarda qua delle altre baci mie guarda la io ce li ho non ce li hai dove però esiste anche in commercio dove queste questi qua sono dei negozi di numeri ma io non è che li faccio pubblicità e per aiutare voi a trovare siete voi che soffrite meno pausa che cosa prendete per la menopausa per il fondo ormonale vedi questo è qua si chiama siamo di varza sarebbe l'acqua del della versa acida aspetta che bisogna fargli vedere la versa acida però tanto la cesta entro un grande barattola che lo devo aprire lo devo mangiare ogni volta eccolo vedi c'è scritto varze cavolo questa versa acida te l'ho pagato un po però mi conviene mi conviene guarda qua guarda qua questa è salute pura contiene anche la vitamina u a non hai sentito che esiste la vitamina u e questo è il suo quando sta in barile il suo suco allora dicevo questa è questa perché ho comprato questi ma non è per me solo per i clienti coloro che sono seguiti da me questo è bors e si trovano in difficoltà e dicono guarda che non trovo mario quella che dici cose varie allora io dico guarda almeno è la posta che guadagna non io capito non mi deve dare niente vedi questo non lo trovate il boro non lo trovate soffrite e chi lo usa avete visto che c'è dei vantaggi no ci sono anche le testimonianze comunque questa qua non lo trovi tu che soffri di stitichezza di cose varie fegato magnesio sulfato non lo trovi sale inglese sale amaro vabbè diciamo coloro che sono i miei clienti seguiti da me se si trovano in difficoltà che non trovano qualche ingrediente io magari so dove si trova vedi questo somlinishtit vuol dire insonnia per dormire anti stress no e qua ce ne ho dei altri poi qua ce ho queste qualcosa uso anche io ho capito ecco per esempio io ce l'ho qua l'acqua borica però ho finito il magnesio ed è l'acqua borica io lo bevo tu non lo bevi tu vai in farmacia vabbè non vuole farvi un video lungo questo è rivolto soltanto a quelli che mi hanno accordato la fiducia e hanno aperto il portafoglio se hanno bisogno di qualcosa me lo dicono di qualche prodotto io magari lo trovo qua perché qui ci sono dei negozi etnici uno poi ci sono dei negozi ucraini rumeni io non ci guadagno su queste cose qua non me ne frega niente di guadagnare su queste capito quella che è soltanto che è la posta che prende sui nove euro non importa che mandi un grammo che mandi fino a due chili cinque chili non lo so esattamente comunque è non aspettare che ti mando la capusta la versa che questa ti si rovina a proposito dai che ne bevo un po aspetta facciamo così non lo so come si vede ma me ne frego quella che vedete 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 dopo vedrò se mi vedete questa non è pulito che ho provato altra cosa ma adesso me ne bevo un po di questa mi sono bagnato guarda e se ero piccolo dicevo per colpa tua che bel odore mamma mia che bel odore perché prima ho finito questa i rumeni sanno di più cosa parlo naturale alla salute mia wow voi non avete mai provato un gusto così conoscete cinque sei gusti ma ce ne sono un sacco di gusti questo è proprio l'organismo dice dammi ancora una volta ho bevuto una bottiglia di questa intera però ho dovuto andare in bagno così faccio un bicchiere al giorno mi basta se vai un negozio dei rumeni se lo trovi la vicino te chiedi muare de marzo posso dire che la miglior erboristeria dell'europa più bel fornita e delle cose buone non è che i rumeni non hanno tanta industria adesso vuol dire che non è così po lo altro non è così la migliore è plafar la fa per la rumena buonissimo la io non ho mai avuto da dire con le loro robe spero che si vede quanti minuti abbiamo fatto sei minuti non so è rovescio come è che non lo so come è così si è cambiato l'immagine se attendi che cos'è apprendi come entrare nella modalità con una mano ti do io una mano in testa che cacchi ci si mettono qua ma ecco me ne frega niente né questa vedi buonissimo i semi di anetto selvatico vabbè queste è per i scusate per i miei clienti che che non trovano delle cose mi dicono è quella che posso lo aiuto non guardare qua e la il noccino mio è un po forte però adesso non è che ti faccio vedere come bevo ma ne bevo giusto un goccino forte cavolo è più di 50 gradi o che vi lascio quanto e 7 minuti qualcosa cari non posso dire pazienti cari quelli che vi seguo se ti trovi in difficoltà se hai altri problemi da risolvere ricordati che la cifra è quella per tutto il tuo backup generale mi puoi dire e non devi temere che non mi disturbi capito una volta che uno mi ha dato quel poco o tanto quella che mi ha dato capito ha i diritti problema è che ci sono quelli che non ti vogliono dare mai niente ma vorrebbero anche scroccare le tue conoscenze le tue notte non dormite stato con naso nei libri capito e vorrebbero avere un'altra che lo tenevo vedete io ce l'ho l'artemisia mia che lo produco io ma non non mi metto a vendere le cose così vedo della roba certificata così un pochino magari riuscite a risolvere i vostri problemi valido per i clienti e altri fate così tipo ingueare in secco capito perché voi siete addetti della farmacia a volte mi criticate pure ma lei è un dottore fuoco grazie a dio che non sono dottore non abbassatemi a me a quel livello la di vendere farmaci di vendere veleni capito questa qua non puoi avere effetti collaterali te lo dice l'organismo quando hai preso troppo di questa ti viene la diarrea la nausea e lo sai che devi smettere o ridurre mentre i farmaci no perché sono coperte una con l'altra ti mettono antivomitivo anticarmilico cosa fare che tu non senti e nel frattempo fa un sacco di danni mio parere personale voi fate cacchio che vi sembra care mie persone in menopausa se avete dei problemi forse vi conviene provare questo tipo di te aiuta a eliminare il disconforto dal tempo della menopausa tu basta che fai la foto e dopo lo cerchi con google line a destra in alto non ho un altro telefono per farti vedere c'è la foto capito e dopo scegli dalla galleria e ti traduce non è che deve sapere rumeno o altre lingue qualsiasi prodotto che lo vede anche arabo metti così fai la foto dopo poi traduce testo non tradurrà 100 per cento ma traduce